Siamo alla terza settimana dei Campus Rosso Blu nella Formula City che si svolge qui a Casteldebole. Vogliamo fare un po' un bilancio di questi primi giorni di lavoro? Allora, sono state settimane molto intense. Abbiamo avuto molti ragazzi sia nella prima settimana, nella seconda e tuttora nella terza. Direi che il risultato è stato ottimale. I bimbi sono molto felici e il venerdì durante la chiusura le famiglie le vediamo molto soddisfatte. Qual è un po' la settimana tipo che i ragazzi che si iscrivono vivono qui a Casteldebole? Dalle 7.30 della mattina noi siamo già qui al centro tecnico Nicolo Galli, facciamo già l'accoglienza fino alle 9. Alle 10 andiamo in campo per il primo allenamento fino alle 12. Doccia, pranzo, animazione e giochi con i bimbi. Alle 16 si ritorna in campo fino alle 17.15. 17.30, 17.45 merenda e le 18 a casa. Come contrastate il caldo di questi giorni? Oltre chiaramente a tutta l'attività calcistica facciamo anche dei giochi extra calcio dove utilizziamo chiaramente l'acqua ma soprattutto come due anni fa, un giorno a settimana, ogni gruppo va all'acqua park, al villaggio della salute più a Monterenzio. In queste settimane avete avuto anche delle visite a sorpresa qui al campus? Assolutamente sì, la prima visita importantissima è quella del presidente Saputo che nella seconda settimana è venuto a trovare tutti i ragazzi. Nella prima settimana abbiamo avuto Adam Masina, Mattia Destro, c'è stato l'arbitro Rizzoli e anche in questa settimana abbiamo avuto Marco Di Vaio e adesso l'appena ufficializzato De Maio. Siamo alla terza settimana ma i campus rosso-blu continuano? Esatto, ci sarà ancora la quarta City, la quinta City più Sestola che sarà dal 30 luglio al 5 d'agosto. Grandi sorprese per le settimane che rimangono qua al centro tecnico Nicolo Galli, soprattutto nella quinta dove saranno presenti vicino ai ragazzi anche i giocatori della prima squadra. È ancora possibile iscriversi? Se è ancora posto è ancora possibile iscriverti. Grazie a tutti.